crunch bind set benvenuti cari amici del canale dampa tragbi allora proviamo a fare questo video va proviamo a fare questo video di semi analisi come lo possiamo chiamare insomma di elaborazione del lutto mi sono voluto ieri è stata dura è stata dura 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 mi sono voluto mettere di nuovo come ieri la maglietta dell'italia nel fare il video di oggi non per fare un po un colpo di scena ma perché veramente come ci mettiamo la faccia e ne guadagniamo in gioia in emozioni la community cresce il canale acquisisce views bla 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 quando vinciamo perché la vittoria è sempre una spinta clamorosa veramente me ne rendo conto proprio quei numeri cioè è una cosa matematica quando perdiamo quando perdiamo insomma non è che ci dobbiamo nascondere dietro al dito insomma non credo che servisse a fermarlo però insomma il mio tifo il mio tifo per gli azzurri è ovviamente sempre continuo ed incondizionato allora parliamo un po della partita di ieri che male che male che male ieri sera e male non solo nel senso che abbiamo giocato male ma nel senso che una sconfitta come quella di ieri fa male fa malissimo fa malissimo a questa squadra e fa malissimo a tutto il rugby italiano è inutile inutile nasconderci cioè ha proprio degli effetti non dico catastrofici ma realmente realmente pesanti sul sul nostro sport che adesso qualcuno mi dirà danilo dai non farla così non farla così tragica resta uno sport certo resta uno sport resta uno sport abbiamo perso una partita di rugby non 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 siamo per fortuna in guerra non siamo per fortuna in altri cataclismi ma insomma resta comunque la cosa più seria tra le cose non serie diceva qualcuno allora un incubo un incubo scritto nella copertina sembrava improvvisamente ragazzi ieri che i nostri non sapessero più difendere l'italia è crollata ovunque ieri è crollata ovunque è crollata in mischia chiusa è crollata in rimessa laterale ma soprattutto è crollata nello spirito ed è crollata in difesa e allora mi fa quasi rabbia vedere una squadra così perché quello diciamo di interessante definiamolo così di interessante che era riuscito a costruire kieran croley in questi cosa sono due anni e mezzo in questi sì questi due anni in qualche maniera scema di fronte a queste mancanze cioè ce ne facciamo onestamente poco delle strutture offensive della disposizione dei giocatori del 1 3 3 1 del 4 2 4 del cazzi e mazzi ce ne facciamo anche poco dei passaggetti dietro dei pull pass di tutta quella roba che ci fa divertire che se poi crolla tutto l'impianto di gioco cioè ragazzi prima di tutto c'è l'impianto di gioco e poi si costruisce lì e ieri un incubo perché l'impianto di gioco ovviamente parte dalla difesa avevamo detto che prima di questa partita l'italia era la squadra che placava meglio del mondiale con il 90 fischia per cento però come giustamente qualcuno mi faceva notare in nei commenti e come io stesso avevo detto nel video più volte avevamo giocato contro la namibia l'uruguay se adesso siamo arrivati a pensare che la namibia l'uruguay debbano essere i nostri parametri seri di giudizio beh insomma fatemi dire che si stava meglio quando si stava peggio ecco ecco un incubo un incubo un incubo per esempio guarda l'ho scritto nella nella copertina perfino ian foster ieri ha detto che veramente non si aspettavano questo e che cosa c'è tra parentesi di questa frase dell'allenatore della nuova zelanda un avversario così nullo nullo zero zero ieri l'italia era zero in campo zero zero che rancori invece in un'intervista che ha lasciato nel dopo partita tra l'altro tirano con questo risetto un po fastidioso devo dire la verità anche se lo capisco che un sorriso di amarezza un sorriso di forse anche in qualche maniera sarcastico per come è stato gestito gestito il suo contratto tutto quello che volete però insomma lo preferivo quando non sorrideva a sto punto mi piacerebbe che i sorrisi fossero di vera gioia e non così un po quasi per premere per il culo l'interlocutore ha detto che non farà nemmeno la review della partita tirano crulli ha detto che non farà nemmeno la review della partita che di nuovo capisco il senso della frase lo capisco è andato tutto talmente male che inutile andare a vedere i singoli dettagli anche se anche se probabilmente ci sono quelle due tre cose su cui si potrebbe lavorare in vista della francia e sicuramente proveranno a farlo però insomma ha detto che tutto talmente è tutto talmente disastroso cioè lui non ha detto questo ma ha detto we will not do probably we will not do the review of the match non non si dice pensalo dillo ai tuoi collaboratori ma non si dice alla televisione di fatti poi sudafricani hanno preso la palla al balzo e in un dibattito avvenuto ieri notte hanno subito detto ma se io fossi in kieran crawley io la farei un po di review di sta partita bisogna avere anche il atto in quello che si dice vabbè 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 vaffan bagno va vaffan bagno allora per quanto riguarda la partita in se stesso che cosa volete che dica allora dico solo che al problema enorme 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 del punto d'incontro andiamo un attimo nello specifico allora la prima pescata che ci fanno garbisi va da solo al contatto e russa va dall'altra parte cioè di nuovo non c'è chiarezza di idee non c'è chiarezza ma era l'inizio della partita e non non eravamo ancora ceduti psicologicamente fisicamente era l'inizio e questa cosa l'abbiamo rivista mille volte con l'uruguay ci mettono le mani sulla prima rack che andiamo a fare la namibia ci pescava i palloni nel punto d'incontro con l'irlanda facevamo dei lanci di gioco da rimessa laterale dove io poi mi ero riguardato con otto alcune immagini e dicevo ma chi è qui il sostegno cioè proprio non c'era il giocatore con il compito di andare a sostegno da lancio di gioco dove normalmente una situazione preparata tavolino allora questo è un problema è un problema gigantesco ormai abbiamo capito che che rancoli questa cosa l'ha sottovalutata tra l'altro chi segue il benetton si ricorderà che questo era un problema anche del benetton anche del benetton più altre cose che erano venute fuori in maniera clamorosa l'ultimo anno e ormai è chiaro che una delle cose più importanti in assoluto del rugby noi la lavoriamo poco e non male malissimo malissimo ecco qui l'unica cosa che mi in qualche maniera consola e che immagino che con l'arrivo di chessada questa cosa cambierà perché non può essere che venga lavorato in maniera così approssimativa il punto d'incontro nell'ultima chiacchierata che ho fatto con frati io l'avevo definito un problema abnorme frati ha detto ecco forse esageri un po con il dirab norme chiamiamolo importante no 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 è gigantesco è gigantesco perché al rugby non puoi giocare soprattutto se vuoi giocare col multifase come fa l'italia quindi utilizzando meno il gioco al piede uscendo velocemente dalle racche eccetera eccetera se poi a ogni cazzo di racche ti mettono le mani sul pallone non non esci non esci ma non è che ci voglia chissà quale genio comunque in sto caso non è neanche solo quello è non è neanche solo quello è crollato ieri proprio tutto l'impianto di gioco per esempio la mischia ok gli all blacks avevano una mischia più pesante della nostra all'inizio ma no la prima mischia teniamo un po ma già ti rendi conto che durerà poco ma poi soprattutto togli un pezzo e casca tutto per esempio ieri si fa male fischetti entra nemer adesso disclaimer visto che l'ultima volta qualcuno mi ha detto che l'avevo criticato per l'episodio della banana che comunque resta un episodio da deficiente disclaimer non lo sto criticando su quello sto sto parlando del gioco beh ieri nemer è sembrato obiettivamente inadatto al livello eh ieri purtroppo ivan nemer che contro avversari più eh malleabili a volte sembra un giocatore fuori serie perché ci piace tantissimo le corse che fa ricordate con la romania come sfonda quel rumeno poi corre fa l'offload sì vai a sfondare brodi retagli è un po diverso un po diverso e nemer ieri è sembrato obiettivamente inadatto inadatto in rimessa laterale purtroppo allora se se qui togli fischetti e cade tutto a sinistra onestamente eh non abbiamo una soluzione adatta dopo fischetti adatta a giocare con gli oil blacks contro gli spring box eccetera eccetera a sto punto forse col senno del poi visto il problema di solidità in rimessa in in mischia sarebbe stato meglio portare zani che almeno è più solido di di never in 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 mischia in rimessa laterale poi un disastro un disastro eravamo una delle migliori rimesse laterali però di nuovo ripeto contro namibia e uruguay togli nicotera e lamb che si è fatto male tra il primo e secondo tempo e non abbiamo più né il lancio né soluzioni decenti che non siano tirarle tutte su ruzza allora sul lancio non voglio nemmeno nemmeno più parlare dei lanci di faiva perché sono veramente imbarazzanti ehm sulle soluzioni ne abbiamo invece parlato tante volte e siamo arrivati a al mondiale e siamo arrivati al mondiale con un problema gigantesco lì in rimessa laterale gigantesco in rimessa laterale piccolo problema gli oil blacks hanno gente che è ingegnere nucleare di rimessa laterale sono eh degli scienziati spaziali di rimessa laterale e ieri ce l'hanno fatta pagare tutta era quasi penoso eh vedere la nostra tush dico una cosa estremamente eh politica l'incorrect ehm un popular opinion e tutto quello che volete che causerà critiche causerà eh haters causerà dibattito però la dico non me ne farei a niente a proposito delle soluzioni rimesse laterali ma secondo voi quel famoso game plan che avrebbe fatto sì che Sergio Paris ricordiamolo eh per ragioni squisitamente tecniche tiran cruele non è non si è rappresentato a vedere la finale della coppa e poi è andato di persona a parlare con Paris e spiegargli che per ragioni squisitamente e essenzialmente e solamente tecniche non potesse giocare il suo sesto mondiale e scrivere la storia quel game plan come è andato ieri quanto lo avrebbe rovinato Sergio quando non si abbassa così tanto nei placaggi quando magari non va a mettere le mani a fare il grillo talpa cosa avremmo fatto avremmo perso di 139 secondo voi comparisse e non ditemi che sì ma avrebbe rovinato il gruppo bla 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 perché Rulli ha detto che sono ragioni solo tecniche e solo di piano di gara basta aperta chiusa parentesi lo so che ho sbagliato a fare questo inciso però non sono riuscito a mordermi la lingua allora in difesa poi quindi abbiamo parlato di rimessa laterale abbiamo parlato di mischia in difesa in difesa se non anticipi un minimo un minimo sia i placaggi che le coperture se non copri la profondità per esempio la prima meta arriva da una copertura dove avevamo lasciato solamente un difensore dietro con capuozzo che era dovuto salire sulla linea e johane che dormiva dall'altra parte e quindi e allan a sua volta in profondità che si sarebbe dovuto spostare andando a tirare giù johane però se non anticipi ed era l'inizio della partita se non copri la profondità sei morto contro gli all blacks sei morto sei morto e poi anche nella prima meta varney esce alto e se voi guardate un paio stamattina mi sono fatto male mi sono riguardato un po di alla partita se guardate la difesa su quella azione lì sulla meta con il calcio passaggio ci sono un paio di fasi prima prima che la palla arrivi a giordi barrett ci sono varney e garbisi che stanno guardando il pallone quando qualsiasi cacchio di allenatore di under 16 che abbia un minimo di idea di quello che fatti dice guarda davanti guarda davanti comunica col tuo compagno di squadra invece tutti che guardano come dei polli la palla varney esce si stringe esce alto non si capisce perché solo che si dimentica che dall'altra parte c'è gente con il piede di con il piede di jordi barrett e all'altra c'è gente con il finish di di will jordan ma ragazzi cioè non di cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando ma poi va bene le coperture va bene le letture tattiche ma sempre sulla difesa se non plachi se non plachi allora ragazzi fatemi dire sta cosa che tristezza vedere i nostri quasi scansarsi scansarsi o ancora peggio o ancora peggio perché adesso qualcuno dirà l'esa maestà non si è scansato nessuno guardatevi la partita nascondersi scansarsi o ancora peggio fermarsi dopo due passi dal momento in cui si crea il break per esempio guardate la meta di aaron smith in mezzo ai palli nel momento in cui ardi savea crea il break c'è nemer varney e nicotera praticamente sulla stessa linea di aaron smith aaron smith accelera loro si fermano si fermano guardate nemer il clamoroso fa due passi e tira su le braccia e non dopo un multifase enorme tra l'altro era anche entrato in campo da poco cioè allora se tu non vuoi fare uno sprint contro il cazzo di all blacks ma stai a casa scusate se scusate se se lo dico e poi i pianti non gioco ma questo quell'altro e comunque anche chi si deve da fare arrivava sempre in ritardo mi faceva un po pena capuozzo che veramente sembrava l'unico l'unico ad avere un minimo di essere un minimo dentro la partita fare delle uscite con dei tempismi accettabili aveva voglia di giocare con gli all blacks capuozzo aveva voglia di giocare con gli all blacks poi per carità si perde in 23 ha perso anche capuozzo ma aveva voglia si vedeva che aveva voglia di giocare con gli all blacks gli altri non non avevano voglia di giocare con gli all blacks avevamo alzato bandiera bianca a metà primo tempo allora velasco so che sono noioso che vi cito sempre velasco però ho visto un video tra l'altro che è stato postato nel gruppo patreon da giulio che ringrazio e quel video lì diceva andate a cercarvelo nello sport non puoi mollare non puoi mollare è il che uno dice vabbè facile dire così no no ma attenzione lui proprio lo spiega dice non vuol dire che devi sempre giocare a 10 se quello il tuo massimo ok diciamo che tu puoi dare 10 o puoi dare 8 ma se hai la giornata dove non ti riesce niente anche perché gli avversari sono molto forti e non e non ti permettono che ti riesca bene diciamo che quel giorno il tuo livello può passare a 5 a 4 quello che è ma se il tuo livello è 5 devi giocare a 5 se il tuo livello è 4 devi giocare a 4 non non puoi permetterti di giocare a 2 perché vabbè vaffanculo sta partita o mai andata non puoi non puoi quello è per a dire la tua squadra tra dire la tua gente tra dire il pubblico tra dire il tuo sport ieri o ragazzi scusate se lo dico ma mi sono sentito tra di to tra di perché la passione che ci mettiamo è tanta è tanta e non solo io nel fare i video cioè c'è tantissima gente che si smazza tutti i giorni per per il rugby per la passione ieri abbiamo perso non so quanti tifosi tu non puoi tradire così il tuo impegno il tuo lavoro il tuo sport l'italia ieri ha giocato molto ma molto ma molto al di sotto del suo livello massimo del giorno che era basso ok ci avevano dato 28 punti di handicap nelle stime dei bookmakers diciamo che erano stati che avevano sbagliato diciamo che ne avevamo che ne so io 40 40 ma non puoi prenderne 70 incassando nel 96 non non puoi non puoi 96 punti neanche la namibia e la romania fanno così schifo sto mondiale cioè non esiste che male che male ragazzi e ma le che ma le infine fatemi fare un'ultima considerazione sulla credibilità e il rispetto che ricordate era il fine ultimo del periodo di colli no l'aveva scritto sui muri del dell'olimpico io ricordo i video che feci appena arrivo croli eravamo tutti gasati the holiday is over credibilità rispetto ovunque bene credibilità rispetto sono una roba figa da dire poi si potrebbe discutere se vale la pena di puntare a qualcosa che dipende dagli altri non da se stessi però questo è un discorso un po più lungo però diciamo che la credibilità il rispetto come tutti sanno si guadagnano con molta 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 pazienza con molta fatica con molto lavoro però si perdono in un attimo questo lo sappiamo tutti e così nella vita e così nella vita si perdono in un attimo ragazzi c'è poco da fare se siete se siete per esempio in una relazione in una famiglia potete portare le rose i cioccolatini ed essere i migliori mariti del mondo però se la tradite o se lo tradite in un attimo avete perso tutto bene nello sport non è così perché lo sport ti dà sempre un'altra opportunità però ieri secondo me abbiamo minato seriamente quella credibilità e rispetto che poi fondamentalmente forse non ci eravamo nemmeno ancora guadagnati visto che come dicevo nel video di ieri in nuova zelanda nemmeno ci valutavano nel nel pre partita nemmeno ci nominavano quindi forse sta credibilità e rispetto ce la siamo sognata noi anzi decidete voi se quest'italia è o non è meritevole della credibilità e del rispetto ragazzi per fortuna il mondiale non finisce qui ci sono tante altre emozioni il rugby non finisce qui oggi gioca previso giocano le zebbre gioca la nazionale italiana femminile nel warm up match con il giappone ci sono tre interessanti partite che seguiremo qui in live tranne quella della sera perché andremo lunghi poi anche con la femminile quindi seguiremo le prime le prime due partite che adesso a memoria c'è sicuramente figi giorgia e poi c'è argentina cile quindi c'è argentina cile alle 3 figi giorgia alle 5 45 scozi e romania alle nove che non farò la live però poi domani si torna di nuovo con australia portogallo e sud africa tonga alla fine di figi giorgia daremo uno sguardo alla fine delle due partite che si giocano in contemporanea ossia del benetton e della nazionale femminile io vi mando un grande grandissimo bacio scrivete nei commenti che cosa ne pensate cerchiamo di mantenerci seppur nel pieno diritto di parola nell'educazione nell'educazione anche se non siete d'accordo con quello che ho detto io cercate di esprimerlo con educazione se volete esprimere qualcosa verso il gioco della nazionale italiana fatelo sempre con educazione e ci vediamo per i prossimi video ci vediamo in live ciao un bacio a presto